Stancito l'ingaggio del nuovo preparatore atletico, sarà infatti l'ex Juventino Ventrone a curare la preparazione estiva dei calciatori rossazzurri. Il Catania si tuffa definitivamente nel mercato calciatori, anche se non ancora ufficialmente. In attesa dei campionati del mondo che polarizzeranno l'attenzione del mondo calcistico maggiore, in casa Etnea si pensa di impostare la squadra per il prossimo campionato di Serie B, che dovrà vedere la formazione del presidente Pulvirenti ai nastri di partenza come una tra le pretendenti all'assalto di categoria. Bisognerà intanto capire chi resterà e chi partirà, non mancano le offerte per i pezzi pregiati. Bergessio è sempre seguito da società della massima serie, nelle ultime ore si è fatta avanti l'Atalanta, offrendo 5 milioni di euro per l'attaccante argentino, che a questo prezzo però potrebbe restare ai piedi dell'Etna, a meno che non si faccia avanti una società dal maggiore blasone, così come è stato detto nei giorni scorsi, potrebbe essere la Roma ad interessarsi alle prestazioni del numero 9. Non resterà invece Barrientos, per lui si profila un ritorno in patria alla San Lorenzo, mentre Maxi Lopez, vera e propria palla al piede, potrebbe finire in Turchia. Non è mancato di testare una certa suggestione, l'ipotesi che Adriano, l'ex imperatore, possa arrivare a vestire la casacca rossa-azzurra. L'attempato attaccante potrebbe vedere di buon grado l'idea di rilanciarsi partendo dalla serie B, ma questa è tutta una trattativa da vedere e da analizzare sino in fondo, per capire se veramente può essere la soluzione migliore per rafforzare l'attacco rossa-azzurro. In tal senso la ridda di nomi è sempre più ampia. Da Pavoletti a Cacia, passando per Calaio, chiunque arrivi comunque, Pellegrino dovrà avere a disposizione un reparto avanzato, in grado di garantire la giusta penetrazione offensiva, indispensabile se si vuole puntare in alto.